buonasera niente io volevo dire che io a livello nazionale conosco 15 regioni forse l'unico posto dove non sono mai stato in umbria e desidererei tanto visitare assisi per andare da san francesco perché io avrei dovuto chiamarmi francesco non gianfranco però c'è tutta una storia dietro di me però poi dopo mi hanno chiamato gianfranco per il mio vero nome sarebbe stato francesco doveva essere francesco perciò vorrei andare da san francesco ad assise però comunque conosco 15 regioni italiane tranne la sicilia le regioni che non conosco sono la sicilia la sardegna la calabria il trentino attuatici e friuli venezia giulio le altre 15 le friuli venezia giulio le altre 15 le conosco tutte è l'unico posto dove non sono mai stato e da san francesco ad assise gubbio l'umbria è una terra bellissima piena di storia di arte di cultura semplicità è una terra di amore cioè l'umbria è una bella terra non l'ho mai visitata l'ho percorsa mi sembra no 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 neanche non posso dire che sì se non erro quando sono stato a roma se non erro e a roma sono stato tante volte però comunque diciamo che l'unica tappa che mi manca il san francesco poi conosco 15 regioni italiane cinque purtroppo la sicilia la calabria non vorrei essere ripetitivo sicilia calambra sardegna trentino attuatici e friuli venezia giulio non le conosco per il momento mi fermo qua perché dove sono stato ho viaggiato cioè sono arrivato a 50 anni sono soddisfatto la mia vita perché ho viaggiato anche ho conosciuto tanto fino adesso perché ho 50 anni non ho 70 anni 60 anni 70 anni 50 anni posso ancora posso ancora chiedere alla vita però per il momento però non so se poi continuerò a viaggiare o meno però o continuo o mi fermo comunque in giro ci sono stato io le a viaggiare ho viaggiato ma posso ritenermi infortunato adesso mi sto impegnando per la musica perché sto portando avanti un lavoro molto serio molto impegnativo di sotto forma di autostima e soprattutto di soddisfazione personale cioè soprattutto cultura amore la musica è molto impegnativa perché non è solo una questione economica di studio perciò ma anche di soddisfazione personale che ti riempie tanto è una cosa molto bella che ti dà grandi soddisfazioni la musica è una cosa molto ma molto importante almeno io che ci credo in queste cose in quello che faccio per me io mi ritengo una persona molto soddisfatta perché faccio ciò che amo e questo è un lusso che non tutti possono permettersi infatti io non sono frustrato sono contento la mia vita perché faccio ciò che amo ciò che mi piace sono una persona libera sono un angelo uno spirito libero e non c'è cosa più bella della vita buonasera a tutti belli e brutti un besomuso viva la musica grazie a tutti grazie a tutti